il titolo di questo video ha ovviamente un sapore provocatorio ma è stato pensato per mostrare ai nostri medici informazione gli studenti ai giovani medici come è possibile elaborare un programma di prevenzione forse in maniera meno tradizionale del solido ma in maniera incisiva in maniera molto valida ed è destinato anche a soggetti laici fumatori che non vogliono o non proprio non non riescono a smettere di fumare pensato per loro affinché non cambino subito canale pensando che qui si dirà subito smetti o muori o si daranno numeri statistiche agghiaccianti proverò a spiegare in maniera molto semplice delle cose a cui forse è stato dato poco peso e mi permetterò alla fine anche di dare dei consigli d'altra parte se qui se qualcuno potesse pensare o volesse pensare che qui si dirà che si può fumare o che fumare fa bene chiaramente ha sbagliato video i fumatori incalliti tra virgolette che non vogliono non riescono a smettere di fumare sono tendenzialmente quelli del del almeno non accadrà quelli che si sentono immortali e quelli che proprio ci provano gusto a fumare e che magari hanno un nonno di cent'anni che ha sempre fumato e dal quale non è mai successo assolutamente niente tra l'altro i fumatori evitano video di questo genere come evitano coloro che gli spengono la sigaretta appena accesa gli nascondono il pacchetto di sigarette appena comprato e poi gli dicono ancora un'altra con otto punti esclamativi e o poi ancora gli dicono se continui a fumare vuol dire che non vuoi bene al papà la mamma la moglie i figli e a quant'altro e peraltro se vanno dal medico soggetti fumatori e dicono al medico una marea di bugie come se il medico non si accorgesse da tanti segni che ha a che fare con un fumatore ci sono poi dei medici che fanno effettivamente dei colleghi che forse fanno un po di terrorismo non torni da me se non smette di fumare ecco anche questo forse è un modo per allontanare le persone e non che hanno questo tipo di problema e non per aiutarle e allora cominceremo a dire che oggi come oggi il modello del nonno non funziona anche se il nonno a cent'anni ha sempre fumato va in bicicletta ancora fa sesso questo modello non funziona sarà che quelli del nati cent'anni fa avevano un'altra tempra erano di un'altra razza d'altro canto sono sopravvissuti a due guerre qualcuno anche più di guerra in era pre antibiotica noi siamo molto ma molto più fragilini chi fuma sa benissimo che le sigarette che si gode sono 34 durante la giornata una la mattina quando si alza dopo il caffè magari lo aiuto andare di corpo un'altra dopo pranzo un'altra ancora la sera davanti alla televisione dopo un altro caffè un'altra prima di dormire insomma però sono sicuramente pochi il problema già sarebbero queste tre o quattro ma il problema ancora più grave che sa questo tra queste tre o quattro ci se ne mette di dentro 10 20 30 40 chi vuole fumare continua a farlo anche se sa perfettamente che vive una vita peggiore di quella che avrebbe se riuscisse a non fumare c'è quindi il problema di una vera e propria dipendenza dipendenza sicuramente di natura psicologica adesso io non sono nemmeno in grado di approfondire questo tipo di problematica e poi c'è la dipendenza fisica dipendenza fisica che oramai è acclarata ovvero sia sappiamo perfettamente che la nicotina che si estrae dalle foglie del tabacco che è quella che dà l'aroma alle alle sigarette e induce la liberazione dai neurotrasmettitori presinaptici di dopamina e poi anche più o meno indirettamente di endorfine che sono sostanze che danno una certa sensazione di benessere una certa sensazione di euforia da cui poi effettivamente il fumatore diventa dipendente non sto qui poi indagare sui costi perché anche quella è chiaro è una situazione che incide molto sulle tasche di tutti coloro che non vogliono o non riescono a smettere di fumare una sigaretta ovviamente non è fatta solo da nicotina ma è fatta da tutta una serie di sostanze che sono dannosissime per il nostro organismo e ne cito alcune monossido di carbonio idrocarburi policiclici ammoniaca benzene e chi più ne ha più ne metta è stato calcolato che chi fuma 20 sigarette almeno 20 sigarette al giorno per un anno è come se bevesse una tazza di latte piena di catrame è stato altresì calcolato che dopo vent'anni un signore che fuma un signore una signora che fumasse venti sigarette al giorno e mi incamera più o meno cinque chilogrammi di polvere che in qualche modo riesce a metabolizzare all'interno della della mucosa respiratoria ma certo da questo ne ha un danno quindi quei cinque chilogrammi non lo faranno certo ingrassare anzi e pensate che noi medici consideriamo colui o colei che fuma più di dieci sigarette al giorno lo consideriamo un forte fumatore ma vedete qui non è la questione di una o tre o dieci o venti o cento perché nessuno sa quando avverrà il danno quale danno ci sarà quante sigarette ci vogliono per produrre un danno quanto tempo ci vuole ecco non lo sa nessuno di sicuro il fumo danneggia la parete delle arterie danneggia il microcircolo con una riduzione di flusso del distretto circolatorio a livello di distretti molto importanti come quello delle coronari a livello del muscolo cardiaco oppure a livello cerebrale o in altri distretti come gli arti inferiori o il circolo perineale cosa succede a livello del cuore se c'è una sofferenza di irrorazione e ci possono essere all'inizio dei sintomi tipo aritmia come delle strasistoli dei battiti a vuoto sentirsi un po in cui il cuore in gola o la mancanza di un battito il battito dopo sembra più accentuato che può essere singolo o dopo tutta una serie di sigarette a salve quindi un battito a vuoto uno dietro l'altro quindi una serie una vera e propria aritmia poi si va incontro e può essere presente quindi per tensione arteriosa e è un brutto giorno dei dolori anginosi che ovviamente possono essere segno di una tendenza all'ischemia e miocardica a livello del sistema cerebrale e i sintomi possono essere precoci possono essere delle vertigini difetti di concentrazione delle amnesie transitorie fino ad arrivare anche dei vasospasmi transitori che possono essere l'anticamera dell'ictus e il medico che visita un fumatore da molto peso ai palpazione dei vasi periferici e nel video predisposto già inserito nel nostro canale possiamo vedere ad esempio la palpazione delle carotidi oppure come si esegue la palpazione delle arterie femorali per la valutazione del circolo proprio degli arti inferiori ecco nei forti fumatori è molto facile imbattersi in soggetti che hanno dei crampi o dei dolori anche dopo brevi passeggiate dopo poche rampe di scale e quindi poi il circolo perineale che ne viene a soffrire con tutto ciò che riguarda anche per i soggetti di sesso maschile la potenza sessuale quando parlo di questo mi torna sempre alla mente quella storiella di quel signore che vado al tabaccaio compro un pacchetto di sigarette dove c'è scritto il fumo rende impotenti torna subito indietro dal tabaccaio e chiede la sostituzione del pacchetto con quello in cui c'è scritto il fumo fa venire il cancro è chiaramente una battuta anche un po tragica però insomma il danno vascolare c'è e l'ho fatto procedere al danno respiratorio perché è stato visto come in tutti i fumatori 100 per cento più o meno sintomatico c'è un danno a livello del distretto vascolare ma abbiamo detto delle polveri che si stratificano all'interno del nostro sistema respiratorio ecco all'interno vuol dire che arrivano fino a stratificarsi negli alveoli dove avvengono gli scambi respiratori a livello della membrana alveolo capillare che viene così defunzionalizzata gli alveoli si interrompono formandosi a questo punto delle sacche inerti di aria che non scambiano più a livello respiratorio e formandosi quella situazione che va sotto il nome di enfisema ma anche la mucosa vera e propria ne viene a soffrire perché le polveri la irritano e si viene a formare del catarro all'interno del dell'ume bronchiale e si va incontro a quella che viene definita broncopneumopatia cronico-ostruttiva poi c'è il problema ovviamente del cancro il deposito di queste polveri oltre che irritare può generare delle mutazioni a livello delle cellule della mucosa bronchiale che vanno incontro a forme di displasia che evolvono verso un cancro della mucosa bronchiale sintomi prioritari sintomi che possono effettivamente far pensare a dei processi che stanno evolvendo a livello respiratorio a causa delle del fumo intenso e sono la tosse tosse insistente tosse che non passa con niente e l'emissione di catarro magari mattutino grigiastro e poi anche durante la giornata e se è striato di sangue va sotto il nome tecnico di moftoe e poi l'affanno i pazienti lo chiamano affanno noi medici lo dobbiamo definire dispnea prima soltanto da sforzo e poi purtroppo anche a riposo ma qui sia non sono sintomi premonitori ma chiaramente se ma stiamo andando verso un'insufficienza respiratoria e se avrete voglia di guardare il video per già predisposto nel nostro canale sulla visita medica del torace vedrete come con l'ispezione la palpazione la percussione l'ascoltazione un medico può rilevare segni e sintomi di una situazione di una patologia respiratoria che fare è chiaro che il medico consiglierà dei centri antifumo esistono metodiche centri antifumo molto seri e anche se io credo però che la volontà di voler smettere è fondamentale perché è vero che esiste la dipendenza sia psicologica sia 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 fisica però ecco la volontà è una condizio sine qua non per proprio decidere di smettere di fumare quindi il medico è chiaro cercherà di convincere il fumatore a desistere da questo modello di vita però poi certamente non lo deve abbandonare e deve richiedergli degli esami di laboratorio per vedere com'è il suo stato di salute generale e poi soprattutto esaminare i vari organi ed apparati che possono essere andare incontro a un danno da appunto il fumo e quindi chiederà l'effettuazione di un elettrocardiogramma e contest da sforzo oppure un esame alter quindi la misurazione nell'arco delle 24 ore e della pressione e della frequenza cardiaca del ritmo cardiaco quindi ancora l'esame spirometrico per la misurazione dei diversi volumi respiratori di cui è capace il soggetto in questione e potrà chiedere anche un rx del torace per evidenziare delle situazioni già macroscopiche però se si vedono già al una lastra al torace e quindi da ultimo un ecodoppler dei vasi per vedere per documentare eventuali danni a livello delle arterie a livello del circolo arterioso beh certo se anche uno solo di questi test dovesse diventare dovesse evidenziare la situazione di una patologia in atto non smettere di fumare effettivamente non vuol dire non voler bene agli altri ma vuol dire in primi se non voler bene a se stessi e se qualcuno mi rivolgo ai miei giovani colleghi vi dicesse tanto tutti dobbiamo morire c'è il fumatore fatalista soprattutto quelli un po più avanti negli anni e bisogna rispondergli che il problema non è morire ma star male da morire e allora a diventare veramente dipendenti da qualcuno ma perché si è diventati invalidi grazie